Primo test amichevole della stagione per la Lazio che si è scontrata contro Auronzo di Cadore, il risultato di 21 a 0, non lascia spazio a interpretazioni. È il nuovo record di segnature per la sfida contro la rappresentativa Veneta. È normale che contro un avversario di questa caratura non si possano trarre grandi conclusioni, però qualche spunto importante dai nuovi arrivi si può anche estrapolare. È piaciuto Cancellieri per come si è mosso da vice immobile, tanta cattiveria, tanta voglia di segnare e delle doti acrobatiche fuori dal comune. Se fosse entrato quel gol in rovesciata sarebbe venuto giù lo Zande Giacomo. Anche Marcos Antonio ha fatto vedere qualcosa, ha giocato nel secondo tempo, non ha avuto a che fare con dei contrasti fisici, però ha messo in mostra le sue qualità con i piedi, il piede educato, un paio di passaggi filtranti piuttosto visionari. È ovvio che dovremo vederlo in una partita dove ci sarà un furor agonistico diverso. Per quanto riguarda Casale invece, praticamente ingiudicabile perché non è stato mai chiamato in causa, quindi per dei giudizi più approfonditi dovremmo rimandare a test più probanti. MVP della gara, Felipe Anderson, autore di Un Poker.